Cremona Musica 2023. Al mio arrivo era un po' titubante, però la realtà mi ha dimostrato che le aspettative ogni tanto non sono quelle. In questo caso possiamo dire che, fino adesso, al secondo giorno della fiera, siamo riusciti ad avere un risultato onestamente inaspettato. La grande presenza di pubblico colto, interessato e una percentuale alta di italiani, che a me molto fa piacere, è promettente, ci permette di vedere nel futuro positivamente. Viviamo quest'attimo, che è stato veramente, fino adesso, bellissimo, e spero che continui così, per noi e per tutti i partecipanti di questa fiera, che va tenuta, conservata e sviluppata, per avere un futuro sempre più bello e sempre ricco di bella musica, classica e tutto quello che sia. Grazie.